Allora, fate con calma, eh. Tutto il tempo che ci vuole. Giuseppe sta flettando. Prendi la bandiera, prendi la bandiera! Guardi che hai appena detto che è tutto in scala, nel senso che da noi... Fa così. Ma tu sei veramente con il giacchino? Con giacca, sciarpa, berretto, piedi da sole e crema cinquanta. Mi sta dicendo che qua ci sono i puma? Ci sono le cougar! No, ci sono le nai. Ci sono le cougar! Cioè la gente vomiterà quando viderà. Viderà questo video. Oh, oh, aspetta! Eh, la sacchia era... No, aspetta. Dai, andiamo Tamarri! No, aspetta, il mistero del telefono. Giulia ha perso il telefono, non si sa dove. A un certo punto lo chiamiamo e ci risponde una donna al telefono, che ride, hello, ha ha ha, e attacca. Quindi pensiamo che il telefono non sia in questa macchina. Fermiamo tutti gli americani che vediamo passare, nessuno lo vede, nette. Dopodiché troviamo il telefono in questa macchina. Quindi o ha risposto un fantasma a quel telefono, o Mario, chissà chi si sta scrivendo. In quest'albergo? Ma no, loro vogliono andare a Moab. Quelli lì, stanno decidendo. Io scommetto un dollaro che ci fermiamo. Allora che ripartiamo. Ma scommettendo un dollaro. Esatto. E chi se andiamo fuori, stiamo? Eh, stiamo. Casomai c'è il gelato, ce lo giochiamo lì a gelato. A Maunes. Non è Maunes. Valletta, abbiamo trovato un posto che è Simone del Maunes. È come le Maunes.